Adesso ci prendiamo la polvere però, tutta la prendi, adesso ti prendi tutta la polvere, tutta. Adesso fa 50. Poi ce l'ha, ce l'ha un po' in più il talone, il primo prende l'altro, ce l'ha un po' che prende avanti, lo attira in un modo un po' fattucoso, così. Ma il tira, il tira. Come un 600? No. No, no. E facciamo fatica, noi con 400 lpg con 4, facciamo fatica andare in questo passo. Ma non questa terra qui. Misura come fai a prenderci. Ma no, adesso Mauro ha fatto più, ora fa più fondo. Non è proprio di quelle moli moli. Guarda, guarda al sud.